Adesso andiamo verso Valle di Sanche, lasciamo la postazione delle Joux alla Thuy e allora ricapitoliamo, chi erano le prime tre? Allora, la prima donna la Silvia Trighiero, la seconda la Sonia Locatelli, Tim Salomon, la terza la Alexandra Rousset, Tim Pride Light, ottimo e poi a seguire c'era la Turin, la Scilatonetti, poi c'era la Chiara Taglia, ce ne erano tante altre diciamo che il gruppo è ancora abbastanza comparto. Sì, adesso all'incirca sono passate 7-8 donne comunque sono le 15.27. Adesso saranno lì che sbattagliano per arrivare a De Feyes. Sì, adesso andiamo a far merenda e poi ci vediamo a Valgrisa. Ok, ciao!